ma mi manca un occhio e si cioè manca un occhio come faccio a farla intro così arrivo subito bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video anche qui quando cioè con questa mano non so come fare l'intro quindi volevo iniziare il video così in questa maniera voglio ringraziarvi perché vedo che state diventando veramente tantissimi 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 ad iscrivervi al canale vi piace la cosa delle sponsorizzazioni fatemi sapere nei commenti io non so mai quando sia il momento migliore per pubblicare scrivetemi nei commenti secondo voi qual è qual è l'orario migliore in cui pubblicare i video è il giorno e da lì almeno mi posso anche regolare e posso pubblicarli più assidualmente in quei giorni detto questo non perdiamo altro tempo andiamo oggi a fare subito la sponsorizzazione di altri canali di altri nuovi youtubers se volete essere sponsorizzati dovete iscrivervi al canale lasciare un commento con l'hashtag ciao Gianni Miao e lasciare un bel like bro bro in maniera tale che vi posso sponsorizzare ricordatevi di levare la privacy le vostre iscrizioni nelle impostazioni in maniera tale che io posso vedervi tra gli iscritti e posso sponsorizzarvi detto questo ci vediamo dentro il video bello ragazzi bene ragazzi eccoci qui dentro il mio pc questa qui è la mia pagina allora come sempre vi ricordo ancora una volta iscrivetevi al canale levate ragazzi dalle impostazioni qui qui dove c'è le impostazioni youtube se voi schiacciate vi apre praticamente la privacy vi apre allora vi apre vi apre cos'è un'app è un animale vi apre la privacy qua dovete andare poi privacy ok e poi guardate la connessione mega galattica e poi qua dovete levare la spunta qui questa mantieni private tutte le mie iscrizioni questo perché io adesso vorrei farvi vedere il modo in cui io poi vi sponsorizzo perché se io vi vedo qua tra gli iscritti tra gli iscritti del canale io automaticamente poi da qua apro la vostra pagina mi segno tutto quanto vedete quanti siete che siete tantissimi siete mi segno la vostra pagina con l'indirizzo in modo tale che posso metterlo in descrizione se non vi vedo qui tra gli iscritti io tutto questo non posso farlo quindi iscrivetevi al canale levate la privacy e lasciate l'hashtag con scritto ciao Gianni Miao per essere sponsorizzati oh yeah sponsorizzati dagli sponsor più sponsorizzati zin zin vabbè basta ste cazzate incominciamo va allora il primo canale che andiamo a vedere è quello di Andretz Channel ho visto un po' di video non so perché non mi segna guardato vabbè comunque fa tipo delle top 10 top 5 tanto GTA ragazzi tanto GTA e fa veramente veramente scassare e pubblica abbastanza rapido cioè nel senso più o meno una volta a settimana quindi cioè ci sta ci sta mi raccomando iscrivetevi iscrivetevi ha già 128 iscritti quindi basta cliccare qua e pam e siete subito iscritti al suo canale andiamo avanti allora andiamo nel canale di Diamond Angels Channel allora qui molto Minecraft già si capisce dalla miniatura dal dal suo omino è un personaggio di Minecraft cioè si vede è questo e vedo che fa un bel po' di cose qua ho visto questa prima non mi ricordo cos'è che era una Wars forse Idensick non mi ricordo insomma c'è tanto Minecraft tanto Minecraft quindi iscrivetevi al canale anche qui basta un click non so quanti iscritti abbia l'ha tenuto nascosto quindi comunque via passiamo al prossimo il prossimo è Lorenzo Iaccenda mi ha lasciato l'hashtag si è iscritto è tutto e ha tre video tre video e beh ragazzi supportiamolo perché se vede tanti iscritti è anche lui invogliato a fare anche più video quindi mi raccomando aiutiamolo 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 iscrivetevi iscrivetevi poi passiamo a Cosa Pelosa al C.O.F.X è un personaggio davvero forte ragazzi tra l'altro mi ha anche beccato su Facebook si l'ho visto anche il tuo video che mi hai messo è Cosa Pelosa grandissimo è un grande guardatevi i suoi vlog perché è forte ragazzi è forte parla un po' di alieni di esseri umani vabbè parla un po' di tutto quindi andatevelo a vedere ha già un bel po' di iscritti è 404 quindi sosteniamolo sosteniamolo e come direbbe lui saluti umani e alieni ciao Cosa Pelosa allora poi The DDS Channel non so per cosa sia DDS onestamente The DDS Channel ha un fa un po' di tutto vedo qua dei vlog Minecraft Pokémon Uncharted Unboxing fa un po' di tutto fa un po' di tutto qua c'è anche il code c'è FIFA c'è un po' di tutto fa tanti gameplay fa tanti gameplay quindi mi raccomando ragazzi supportiamolo anche perché se ti sei iscritto ecco a te una ciambella ciambella quindi se siete golosi di ciambella o anche se non lo siete chi se ne frega iscrivetevi al canale di DDS poi andiamo avanti con Di Taci non so Di Taci Di Taci però credo che sia di Taci di Taci di Taci ha 76 iscritti quindi aiutiamolo tantissimo a crescere ragazzi quelli che sono sotto i 100 i 200 iscritti bisogna aiutarli tantissimo a crescere quelli che sono sopra bisogna supportarli sempre allora la copertina già mi piace perché c'è Batman e già Batman spacca perché è uno dei miei supereroi preferiti poi vedo qua l'Arkham Knight tra l'altro ci ho giocato ragazzi è bellissimo vedo che fa tanti gameplay della Play 4 cioè proprio like bro proprio grandissimo perché la Play 4 ci piace tanto vabbè ci piace anche l'Xbox va bene anche per tutti quanti quelli che posseggono l'Xbox io comunque ritornando sul canale vedo ha tanti gameplay Batman e Arkham Knight Resident Evil Fury insomma c'è davvero tanto c'è anche questo visto questo che è veramente fighissimo insomma c'è veramente tanto 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 gameplay e World Rogue quindi mi raccomando seguiamolo andiamo avanti con Amagorz Amagorz Amagorzeta o Amargorzeta adesso non so come si pronunci Amagorz e lui ha dei video di Dragon Ball e questo io pensavo che era Slam Dunk e Kuroko no Basket Kuroko no Basket insomma ha molto manga ragazzi manga e anche tutti quanti i anime giapponesi quindi seguitelo iscrivetevi al suo canale 174 iscritti come vedete è anche bello attivo 5 giorni fa 2 settimane 3 settimane quindi ci sta ci sta andiamo avanti qui abbiamo il video di Thomas abbiamo il video di Thomas che a quanto ho capito lui aveva un altro canale poi ha aperto questo sta salendo di iscritti come se non ci fosse un domani ragazzi quindi è molto molto bravo molto molto bravo è forte mi piace il video che fa edita la grande ed è molto 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 bravo molto assiduo anche nel pubblicare quindi c'è un'ora fa due giorni fa sei giorni fa e fa fa dei vlog divertenti fa dei vlog divertenti anche dei gameplay divertenti è forte iscrivetevi Vulta Prank TV allora e non lo so perché lui mi ha messo l'hashtag di iscrivermi anche al suo canale mi sono iscritto perché ho visto che aveva pochi iscritti e così in feed poi quando sono andato a vedere in realtà ha chiuso il canale vabbè io direi ragazzi cioè iscriviamoci a bomba al suo canale iscrivetevi tutti quanti a bomba al suo canale così anche se ha un video solo in cui dice che chiude il canale avrà un sacco milioni di iscritti miliardi miliardi quindi Vulta Pranks TV poi andiamo avanti guardate ragazzi quanti siete sono tantissimi sono tantissimi andiamo avanti il prossimo canale ah Jumper Gold questo è forte mi piace tanto Jumper Gold il suo canale ha 343 iscritti al momento della registrazione di questo video e fa tanti video di FIFA FIFA giustamente calcio perché anche si vede dalla copertina cioè ragazzi non può fare video dico di golf cioè fa video di calcio sono giocatori di calcio io di calcio onestamente ragazzi non ne capisco una sega capisco meno di una ballerina che capisce di fisica quantistica quindi cioè però se è calcio è calcio iscrivetevi ragazzi al suo canale perché supportiamolo tantissimo supportiamolo tantissimo poi abbiamo il canale di GameBetterTV ha 216 iscritti grandissimo mi piace tantissimo la copertina perché questi Pac-Man fa molto il retro il retro game e lui ha tipo Minecraft retro game Doom non ho visto questo video e voglio troppo vederlo perché se hai fatto il video del primo Doom sei un mito hai vinto dalmeno tantissimo like bro poi abbiamo Terraria abbiamo Slaterio Adventure of Linus questo non so che cosa sia 100 modi di morire in Fallout 4 vabbè prima parte vabbè nuovo dentro del canale insomma c'è un po' di tutto ha tanti 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 video Minecraft e anche tanto tanto altro quindi mi raccomando iscrivetevi al suo canale andiamo al prossimo TomTV iscriviti già lo dice anche lui iscriviti ha 186 iscritti e vedo che fa Clash Royale Youtuber Life ho visto questo che è una cover fatta la chitarra di Stitches Minecraft poi diversi consigli vlog Crash Royale c'ha insomma veramente di tutto e di più tutorial insomma di tutto e di più quindi iscrivetevi al suo canale iscrivete ma come l'ho detto ho messo il in avanti veloce allora iscrivetevi al suo canale perché merita tanto quindi aiutiamolo supportiamolo iscriviamoci tutti quanti allora poi andiamo avanti abbiamo siete tanti ragazzi MRL ProGamer 1998 o non so se tipo questo sia un uno slash è mister quindi sarà MrProGamer 98 dove troviamo PES 2016 troviamo anche qua c'è una copertina dei Pokémon quindi non so se boh vabbè basta sfogo basta video sfogo basta basta allora qua un culo immenso non so se sia un video in cui uno twerca la grande oppure no però insomma c'è di tutto Payday Minecraft audio sponsor insomma fa tanto tanto di tutto e di più Minecraft anche vedo tanto GTA San Andreas insomma tanti tanti giochi ragazzi quindi iscrivetevi anche perché è uno molto attivo vedo quattro giorni cinque giorni una settimana una settimana una settimana una settimana una settimana un anno fa vabbè ha ripreso comunque da una settimana a rifare video iscriviamoci ragazzi iscrivetevi tutti quanti 199 iscritti vediamo di fari raggiungere il traguardo di 200 e oltre road to 200 poi andiamo poi andiamo qua nel canale di Alex03 allora lui fa un po' di tutto quindi tot fifa sponsorizzazioni ahimai foto scattate crossbar challenge quando una ragazza ti invita da lei dura 18 secondi credo che duri un po' più di 18 secondi una volta che ti ha invitato comunque fa tanti video ragazzi tanti 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 video quindi iscrivetevi al suo canale supportiamolo mi raccomando tanti tanti iscritti per Alex03 che è forte poi abbiamo i CSM non so per cosa sia l'acronimo CSM onestamente ah 15 iscritti sono pochini ragazzi quindi dobbiamo proprio farlo crescere tanto 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 qui abbiamo una crossbar challenge con gli amici appunto i CSM credo che siano proprio loro quindi ragazzi iscrivetevi al canale di CSM in maniera tale che possa anche avere lui una bella copertina dove scriverci tutto e di più andiamo avanti col prossimo canale GG701 oh yeah GG7 allora lui ha tante cose di Fast & Furious ho visto ragazzi tanto con le macchine Rayman Adventure quindi è forte già mi piace perché io adoro Fast & Furious sono un grande fan delle macchine tanto è vero che proprio in questo periodo sto giocando a vabbè non è proprio Fast & Furious è CSR2 per il telefonino mi sto parecchiano infognando quindi ci piacciono davvero tanto tanto i video di Fast & Furious quindi iscrivetevi al suo canale io mi sono anche iscritto vedi pam che c'è l'iscrizione lui ha 63 iscritti quindi mi raccomando facciamolo 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 crescere andiamo avanti con Falu e Sabri questo qua è il canale come fare una specie di timeline mettendo tre persone vabbè questione di privacy fa tanti vlog ragazzi tanti vlog e Jack Femmina Tutorial Jack Femmina Tutorial non so se si riferisce a Jack Sparrow vabbè vedo su Restart Me Animal la prima volta che e qua non si sa comunque e comunque qua fa tanti 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 vlog tanti vlog ci sono anche delle challenge quindi iscrivetevi al loro canale di Falu e Sabri mi raccomando iscrivetevi non so quanti canali abbia io mi sono anche iscritto perché nel dubbio magari sono pochi quindi facciamo crescere il numero andiamo poi avanti andiamo avanti con Def TV lui ha 77 iscritti con 2 video come sia possibile non lo so però lui lo riesce a fare ed è bravo è bravo quindi tra cui il video uno è una intro di 11 secondi e l'altro è un montaggio di sniper di COD di Call of Duty un montaggio di 59 secondi è bravo quindi iscrivetevi al canale e supportatelo supportatelo ragazzi tanto 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 andiamo avanti con Regular Matt Regular Matt credo che sia Regular Matt comunque vedo che ha dei video di Minecraft sponsorizzazioni attento a Nizza che cosa è successo e cosa ha tentato a Nizza scusate cosa è successo cosa ne penso quindi vabbè vlog roba a scuola intro quindi ragazzi diversi video supportiamolo 242 iscritti per Regular Matt e fa anche video divertenti quando arriva la pagella prima e il dopo quindi iscrivetemi al numero poi abbiamo qua davanti il numero che cosa che numero cosa c'entra vabbè al numero niente abbiamo Ttube che ha 25 iscritti ragazzi e lo vediamo che ha un po' di video parodie Call of Duty poi LTS gameplay epico con GTA Online gli iscritti Minecraft quindi c'è davvero di tutto di tutto quindi mi raccomando iscrivetevi ai canali di Ttube perché è anche uno molto attivo 17 ore 3 giorni fa 4 giorni fa 6 giorni 6 giorni quindi pubblica bello bello spesso andiamo avanti abbiamo nel canale di Samu Balza 1477 648 iscritti ragazzi quindi ha veramente di tutto Pokemon Vlog Call of Duty FIFA GTA Clash Royale iscrivetevi al suo canale perché è davvero tanta 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 roba da vedere qua carica ancora quindi iscrivetevi iscrivetevi tanto tanto al suo canale c'è anche Uncharted grande Like Bro perché è una serie che io adoro Uncharted me la sono proprio mangiata non vedo l'ora di tornare a casa per poter giocare all'ultimo uscito che io purtroppo l'ho perso perché essendo all'estero a lavorare non non lo sono potuto prendere però tra poco ritorno a casa quindi yeah andiamo avanti poi col prossimo canale Beppe Beppe il canale follow me on youtube quindi seguitelo ragazzi fa dei giochi sclero quindi rage game rage quit game iscrivetevi il potere di non so cosa sia però va bene tutorial trucco di magia con le carte spiegazioni anche lui fa degli sponsor quindi mi raccomando iscrivetevi al canale di Beppe poi andiamo avanti ragazzi il canale che ha tanti iscritti ha veramente tanti iscritti è quello di Dennis Ferrotrucchi eccolo qua una bella copertina calcio perché ho visto che fa tanti tanti video di partite di calcetto e quant'altro ed è forte è forte è molto lanciato sul calcio ha 2286 iscritti ragazzi aiutiamolo iscrivetevi tantissimo al suo canale perché lui deve essere un road to 5000 quindi road to 5k ragazzi facciamolo crescere e ha veramente tanti 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 video ha fatto anche tipo gli europei ci sta alla grandissimo gameplay partite di calcetto è forte ragazzi è forte quindi supportiamolo poi abbiamo il canale di by rovsky eccolo qua questo bel ragazzo lo vedete qua quindi iscrivete anzi pam guarda rovsky cioè preso così in diretta mi sono iscritto è bellissimo ho visto il video trippy love non so perché non me lo dà come segnato un bellissimo video poi ha video di crash royale il pensiero youtuber emergente quindi insomma c'è un po' di tutto non ha moltissimi video ragazzi quindi incitiamolo questi youtuber hanno proprio bisogno di essere incentivati come con le vostre iscrizioni con i commenti con i like quindi mi raccomando mi raccomando iscrivetevi iscrivetevi poi arriviamo nel canale di CB forever sono queste due ragazze che ho visto questo video in cui si truccavano mi spiace ragazze che non sia partita subito la registrazione sia partita dopo però bel video bel video simpatico divertente quindi mi raccomando aiutiamo queste due ragazze iscrivetevi al canale di CB forever perché sono davvero davvero forti due due pazzerelle due pazze ok bene allora detto questo detto questo io ritorno ancora qui ragazzi ho finito le sponsorizzazioni quindi mi raccomando dovete aiutare tutti quanti gli youtubers che avete visto iscrivendovi ai loro calali basta calali che è calali un dio induista cali calali vabbè iscrivetevi mi raccomando ai loro canali basta un semplice click non è necessario iscriversi al proprio canale ma è facile iscriversi al canale degli altri quindi fatelo rimanete mi raccomando sempre attivi e rimanete sempre con gli spollici in su un bel like bro detto questo io esco dal computer ci vediamo fuori bada ragazzi bene ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto piaciuto piacione iscrivetevi al canale lasciate l'hashtag con scritto ciao gianni miau lasciate un bel like bro e soprattutto levate la privacy delle vostre impostazioni così che posso vedervi tra gli iscritti e vi sponsorizzerò nel prossimo video fatemi sapere se il video vi è piaciuto e fatemi sapere anche qual è l'orario migliore in cui pubblicare i video sotto nei commenti detto questo ci vediamo alla prossima bella ragazzi e boom baby aaaaa pff a 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